Buongiorno a te, dovrei voluto farla prima questa puntata, ma tra la Pasqua, le feste, gli eventi dappertutto, tante robe, insomma, non sono riuscito mai a registrare, però insomma ci tenevo a farla perché dobbiamo parlare del quello che spesso viene considerato il più grave, il più grave pericolo, il più grave attacco alla supply chain dell'open source, cioè a tutta la catena, insomma, di dipendenze e in generale a tutto l'open source software, in particolare riguardo Linux, di sempre, degli ultimi anni quantomeno, cioè quello che potreste identificare online come XZ, in realtà XZ è il nome del software, della libreria, del pacchetto, insomma, che è stato oggetto di questo attacco. Si può chiamare attacco a tutti gli effetti, ma è un attacco un po' diverso dal classico attacco informatico puntuale, no, che mira in un certo momento specifico a sfruttare una vulnerabilità di un software, ma è un attacco che è stato molto ben congegnato negli anni, che per fortuna però è stato poi scoperto prima che potesse davvero fare dei danni, entrare in azione e quindi non si sta parlando di danni subiti da questo attacco, ma si sta parlando di cosa ha potuto permettere questo attacco e che cosa questo avvenimento ha scoperchiato nel mondo dell'open source. Tutte le discussioni che si stanno facendo in questo momento sono proprio attorno a ma perché lo stato attuale dell'open source software e di Linux permette questo genere di attacchi, questi scenari che sono pericolosissimi e se abbiamo scoperto questo attacco, quanti ce ne sono sfuggiti negli anni? Insomma, per capire un po' meglio queste discussioni e per magari fare qualche altra considerazione in più, vi racconto un po' la storia di questo attacco XZ e poi vi do anche una serie di link di approfondimento ulteriori oggi, così potete andare a vedere esattamente di cosa si parla perché è una cosa super importante che vale la pena approfondire, vale la pena proprio sapere studiare perché potrebbe essere un punto di svolta quantomeno nel modo con cui usiamo, installiamo il software, pensiamo alla sicurezza del software in generale, quindi direi di andare subito. Allora, cerco di raccontarvi un po' la vicenda per come è successa, per quali sono le sue fasi, la sua timeline, senza scendere troppo nel dettaglio tecnico, però insomma, dando anche qualche contesto tecnico per capire di cosa si sta parlando. Tutto parte da questa email del 29 marzo, quindi oggi è 4 aprile, si sta parlando di qualche giorno fa, di Andres Fround, o Fround, boh, sbaglierò sicuramente la pronuncia del cognome, comunque sappiate che è un ricercatore di Microsoft che lavora su Postgres, questo non ci interessa molto, ma giusto per dare contesto. Questa mail è mandata alla mailing list di OSS Security, la trovate su openwall.com, il subject della mail è backdoor in upstream xz slash lib lzma, sono librerie di compressione, è un software che viene usato per fare compressione e decompressione di dati, leading to SSH server compromise, quindi che porta alla compromissione di server SSH. Questa mail cosa dice? Ciao! Dopo aver osservato alcuni sintomi strani in lib lzma, che è parte del pacchetto xz, su installazioni Debian seed nelle scorse settimane, ho notato che i login con SSH prendevano più cicli di CPU di quello che mi aspettavo e ho visto anche un sacco di errori su Valgrind. Ho trovato la risposta. L'appstream repository xz, quindi il repo originale da dove ho scaricato il pacchetto xz, e le tarbol xz, quindi i pacchetti già compressi, i pacchetti già pronti per la delivery e l'installazione creati dallo stesso maintainer, sono stati backdoored, quindi sono stati compromessi da backdoor. Quindi questo ricercatore stava facendo dei test su una sua installazione e si è accorto che il server SSH prendeva un po' più di CPU di quello che si aspettava, i tempi di risposta, la latenza erano più alti di quello che si aspettava, e ha andato a investigare il perché di questa anomalia e ha scoperto che il tutto era derivante da xz, che rispetto all'ultima volta che aveva controllato era cambiato di versione e aveva introdotto del codice diverso dal solito, strano. Poi ha analizzato il tutto, quindi pensava che fosse una compromissione del pacchetto Debian, ma ha scoperto che è upstream, quindi ha scoperto che è proprio la sorgente originale di xz, a quel punto ha fatto un'analisi per capire qual è il codice che aggiunge questi cicli di CPU strani e queste operazioni strane, e ha pubblicato tutta la sua release scoprendo appunto che c'è tutta una serie di backdoor ben offuscate inserite in questo software. Da quel momento naturalmente si alza il megapolverone perché xz è una libreria che nell'ecosistema Linux è cruciale, cioè è una piccola libreria che fa una cosa molto specifica, cioè compressione e decompressione, ma questa cosa molto specifica è utilizzata in vari punti del life cycle di un'installazione Linux, per esempio quando si installano pacchetti o quando si avviano e spengono servizi. Questa libreria quindi viene inserita come dipendenza di vari altri processi del sistema da molte distribuzioni di Linux e infatti inizia il giro delle news che mettono in allerta i consumatori, gli utenti di Linux da questa cosa qua. Quindi vado su Destec a vedere come se ne parla e si dice una potente e pericolosa backdoor con un rating CVSS di 10 è entrata nelle beta release delle maggiori distribuzioni Linux. Naturalmente il CVSS è lo score che segnala la pericolosità di una CVE, quindi di una segnalazione, di una vulnerabilità, 10 è il più alto, è lo score più alto, quindi è critico. Ora Red Hat, dice l'articolo, ha informato gli utenti venerdì, venerdì scorso, di smetterla immediatamente di usare qualunque installazione Fedora Rohide, quindi le rolling release di Fedora, per lavoro o attività personale, dopo aver appunto identificato che XZ contiene questa backdoor. Questa è stata classificata come CVE 2024-3094, ecco la qua, la trovate sul database di vulnerabilità del NIST americano, vedete che la score è 10.0, critica la segnalata proprio Red Hat. Quindi la, dice poi l'articolo, la backdoor sofisticata è stata aggiunta alle tarball upstream, quindi come vi dicevo i pacchetti software già confezionati, pronti all'uso del reposito originale, di XZ Utils, questa è la libreria, che è un tool di compressione che è largamente utilizzato dalla distribuzione Linux nella versione 5.6.0, ed è stata trovata, come dicevamo prima, perché ha scatenato delle investigazioni da questo ricercatore dopo aver scoperto delle performance issue su SSH. Questa backdoor è stata inserita nel pacchetto con un commit che include del codice, naturalmente dannoso, pericoloso, ma offuscato, non in clear text, e naturalmente perché così è molto più difficile scoprirlo. Questo codice altera il processo di build, aggiungendo vari altri codici dannosi durante la compilazione della libreria LibLZMA, ok? Questa backdoor, poi ci dice l'articolo, come abbiamo già visto, è stata scoperta da uno sviluppatore Andres Freund, prima che arrivasse nelle release di produzione delle distribuzioni Linux, ma è arrivato in alcune beta release, come abbiamo detto Fedora Nohide, Fedora 40, Debian Testing, Unstable, Experimental, una versione di Arch Linux, poi anche OpenSUSE Tumbleweed, OpenSUSE Micro OS, e anche per pochi giorni Kali Linux. E poi concludiamo con questo articolo, il team di Kali Linux ha detto che la backdoor potenzialmente permette a un attore malintenzionato di compromettere l'autenticazione SSHD, garantendo accesso non autorizzato a tutto il sistema da remoto. E poi dice, la gravità di questa vulnerabilità è una minaccia per l'intero ecosistema Linux. Ora, per farvi capire la pericolosità e anche la meticolosità con cui questo attacco è stato congegnato ed è stato poi attuato, vi do un po' un qualche informazione, qualche anche dato di timeline di questi eventi. Ora, il pacchetto XZ, quindi questa è la libreria di compressione, era mantenuto da uno sviluppatore che si chiama Lasse Collin, e però le tarbol affette da queste backdoor, cioè le 5.6.0 e 5.6.1, sono state in realtà create e firmate da Jiatan, questo utente che probabilmente non è il suo vero nome, come username JAT75. Naturalmente, come si dice Michael Zaleski, che è un esperto di cyber security, Jiatan probabilmente è uno pseudonimo, e questa persona è apparsa dal nulla nel 2021. Non ha precedente attività come utente con questo handle JAT75, quindi appare dal niente e si mette subito a lavorare al progetto XZ, quindi a XZ Utils. Questo account non ha nessuna informazione che si possa trovare nel resto di internet, tranne un indirizzo Gmail associato, con cui naturalmente gli serve fare il login su GitHub. Come dicevamo, il mantener di XZ era Lasse Collin, che ha creato il progetto, e tipicamente è quello che firma le tarbol, quindi le release di questa libreria per la distribuzione, ma ha lasciato Jiatan firmare alcune delle ultime release, perché era andato in burnout, fondamentalmente, cioè si era distaccato dal progetto, aveva deciso di prendere una pausa, di lasciare quest'utente al comando del progetto, quindi permettendogli di fare dei commit, dei push su repository e delle release, perché appunto aveva bisogno di qualcuno che gli desse una mano a mantenerlo, perché non ce la faceva più. Quindi quanto Collin conosce Tan non è chiaro, ma prima di tutto questo bordello, ecco Collin aveva preso un periodo sabbatico, perché, e l'aveva detto in varie conversazioni, in varie mailing list, non ce la faceva più, aveva proprio dei problemi anche di salute mentali, dovuti in parte anche al carico di lavoro, del mantenimento di questi progetti open source. E tra l'altro per questo, era stato anche piuttosto bullizzato da alcuni utenti isolati, ma insomma molto vocali della community, che dicevano di fare delle release, di accettare dei commit, di lavorare su questo progetto, perché è importante mantenerlo, portarlo avanti, e poi si lamentavano anche del fatto che appunto questo progetto non avesse un maintainer che gli stesse dietro. È una situazione che chi mantiene software open source vede spessissimo. Se siete dei maintainer anche di librerie molto piccole, ogni tanto troverete il commento o l'APR che dice mergia subito questa roba perché è importante, questo progetto non ha maintainer, come mai questo progetto non ha avanzamenti, come mai non ci sono release da sei mesi, eccetera. È un comportamento che purtroppo abbiamo visto, no, abbiamo visto succedere anche in passato e vediamo succedere spesso. Insomma, alla fine pare che Colin trova in Giatan un possibile nuovo maintainer e gli affida le chiavi del progetto. Giatan si era già messo a collaborare con XZ, quindi credo apparentemente che Colin abbia pensato che fosse un utente degno della sua fiducia, anche abbastanza competente e quindi gli ha lasciato la ownership del progetto, gli ha lasciato la possibilità di fare dei push sul repository e di fare del release. Questo è un po' quello che succede come timeline degli eventi e lo possiamo vedere molto bene da questa infografica che poi ci dà anche un'idea di come funziona tecnicamente questa backdoor. L'infografica è stata creata da Thomas Roccia, lo trovate su X come at frogger, però scritto con lo zero e l'underscore finale, insomma, Thomas Roccia dovreste trovarlo, e ci dà una timeline degli avvenimenti su GitHub, quindi quello che succede su GitHub, e poi ci fa un po' vedere come funziona questa backdoor. E vedete che è nel 2021 che viene creato l'utente Giatan, quindi Giat75, il primo commit di Giat75 è nel 2022, il 6 febbraio 2022, sul repo XZ, poi nel 2023, il 28 giugno, c'è uno strano commit, diciamo, a Lib LZMA, che potenzialmente è legato a questo dramma che è l'aggiunta di un'implementazione iFUNC, iFUNC, che sarebbe l'indirect function, poi ve lo faccio vedere subito, l'indirect function è questa, ed è una possibilità che ha la toolchain di GNU, quindi il compiler GCC, di permettere allo sviluppatore di creare più implementazioni di una funzione, in modo che poi a runtime possa selezionare quale funzione chiamare, per magari cambiare l'architettura o altre informazioni di contesto, su dove viene eseguito questo software, eccetera, quindi è un loader dinamico di funzione, che possa avviare in alcuni contesti degli sviluppatori. Ebbene, aggiunge questa implementazione iFUNC a crc64fast.c, insomma, una libreria all'interno, un file, insomma, all'interno di questa libreria. E poi, tra l'altro, l'8 luglio del 2023, apre un APR in OSS Fuzz, che è una libreria per fare fuzzing, insomma, per fare testing in open source, in partite open source, ecco, apre un APR per disabilitare iFUNC per le build, probabilmente per mascherare i suoi intenti poi dannosi, da chi poi fa il testing del software. Siamo quindi al 16 febbraio del 2024, inizia effettivamente la parte cruciale dell'attacco, aggiunge una riga al gitignore, che è il file che dice a git di ignorare alcuni determinati file da repository, aggiunge la riga build2host.m4, che è un file che non esiste nel repository, ma verrà poi aggiunta nella tarbo, nella release finale del pacchetto, che conterrà appunto il codice malevolo. Poi aggiunge dei binari offuscati e nascosti in due file che sono contenuti nelle cartelle di test, che tipicamente contengono vari file, anche random, anche binari, spesso immagini, insomma cose un po' strane che possono servire per testare degli edge case in alcune librerie. Lì potrebbe concentrarsi una certa quantità di attacchi, perché spesso appunto vengono presi come file di test, vengono poco considerati da chi poi fa il review del codice e quindi potrebbero poi passare delle cose un po' pericolose. Quindi lui decide di mettere i file binari più dannosi nella cartella di test, ecco, per nascondersi ancora meglio. A questo punto rilascia xzlib.lzma versione 5.6.0 e 5.6.1. Che cosa fanno in sostanza queste backdoor? Beh, durante il processo di build del pacchetto, quindi quando viene installata la nuova release su una distribuzione Linux, per esempio, viene eseguito il file m4 macro. Questo codice cosa fa? In sostanza va a fare delle sostituzioni sui file che abbiamo visto prima che erano state aggiunte alla cartella di test, quindi per esempio bad.tracorrupt lzma2.xz Questi erano file buttati dentro la cartella di test, però erano dei file malformati, dei file corrotti, dei file che non erano validi archivi xz. Quindi lui facendo dei rimpiazzamenti proprio nel file binario, sostituendo alcuni caratteri, ecco con altri caratteri, rende questi file corrotti dei file validi, quindi non corrotti, e ottiene quindi un archivio valido, un file valido. Ora, quello che succede da adesso in avanti è piuttosto complesso e soprattutto è difficilissimo da spiegare in un podcast, però vi consiglio di guardare questa infografica e poi vi lascerò alcuni link alla fine che analizzano molto meglio cosa fa questo script, cosa fanno queste backdoor e come si sono inserite nel processo di build. Vi basti sapere, in questo momento, che ottenuto questo archivio valido viene decompresso, vengono fatte ulteriori operazioni e insomma vengono estratte delle backdoor che vengono aggiunte al processo di compilazione e di linking. Quindi poi ogni volta che un altro pacchetto utilizzerà xz nel suo processo di build o in qualche sua funzione linkerà questa libreria che contiene del codice che gli permette di eseguire una backdoor a questo punto su sshd apre una porta per accesso remoto alla macchina da qualunque posizione su internet potenzialmente su altri pacchetti fa degli altri danni quindi ha permesso di inserire una backdoor di cui nessuno si accorge in una piccola libreria questa piccola libreria linkata con un altro progetto viene eseguita e apre delle falle sulla macchina ecco che l'attaccante praticamente ha distribuito potenzialmente una backdoor su qualunque installazione linux che include questo xz nel processo di build di un altro pacchetto in questo caso come gravità maggiore su ssh sul server sshd vado su ars tecnica per darvi qualche altro dettaglio vi do una dichiarazione di Filippo Valsorda che è un ricercatore proprio di cyber security che ha detto che questo potrebbe essere l'attacco alla supply chain meglio eseguito che abbiamo mai descritto ed è uno scenario da incubo cioè un attaccante malintenzionato competente e autorizzato upstream quindi con tutti i poteri per creare per pushare commit su un repo su una libreria largamente utilizzata come abbiamo visto qualche dettaglio ancora ulteriormente su questo articolo di hash tecnica su che cos'è xz utis però ormai l'abbiamo visto insomma è una libreria di compressione lossless si dice anche in questo caso quello che è successo l'abbiamo visto non ci resta che scoprire che cosa permettono di fare queste backdoor su ssh beh chiunque sia in possesso di una encryption key quindi di una chiave privata predeterminata può infilare qualunque codice a sua scelta in un certificato di login ssh caricarlo ed eseguirlo sul device backdoor appunto sul device con la backdoor nessuno attualmente ha visto questo codice uploadato quindi non è chiaro che cosa l'attaccante pensasse di far girare appunto però in teoria potrebbe essere qualunque cosa compreso rubare le encryption key o installare del malware e come ssh è legato a xd che è una libreria di compressione di dati che apparentemente non sono legati tra di loro qui si parla del processo di linking e del fatto che debian ma anche altre distribuzioni linux come abbiamo visto in realtà linkano sshd a systemd che è il programma che serve per far girare i servizi linux insomma di una distribuzione linux allo start up al boot del sistema e systemd linka al lib lzma quindi al pacchetto xz a questo punto da xz si arriva a sshd ecco il giro completo di questo software aggiungo un'altra coppia di piccole news prima di passare alle considerazioni vere e proprie è stato rilasciato uno scanner per fare detection delle librerie compromesse insomma quindi si può far girare questo scanner per capire se in un sistema è presente la backdoor fatta appunto spuntare da xz e inoltre il rilascio di ubuntu 24.04 è stato rimandato appunto per far fronte a questo problema per capire se le build che caronica l'ha preparato per ubuntu fossero o no compromesse da questo attacco quindi avremo questo ritardo nel rilascio di ubuntu 24.04 che era prevista per oggi 4 aprile è stata invece rimandata all'11 aprile e potremmo dire bene però l'abbiamo scoperto il software open source ha vinto in un certo senso perché vedi appena qualcuno ha provato a mettere una backdoor in questa libreria qualcun altro facendo dei test e potendo leggere il codice si è accorto del problema e l'ha bloccato certo però se abbiamo scoperto questo tra virgolette per caso perché l'intento di quel ricercatore non era di scoprire la vulnerabilità era tutt'altro e poi se ne è accorto praticamente per caso ecco se non se ne fosse accorto quanto tempo avremmo impiegato per accorgersi di questa backdoor e se ci siamo accorti di questa backdoor per caso quante altre sono state inserite in altri software poco mantenuti magari mantenuti da un singolo maintainer e non ce ne siamo accorti inoltre se Giatan sono due anni più di due anni che effettua commit su questo repo dobbiamo considerare tutti i commit che ha fatto come potenzialmente dannosi malevoli ma soprattutto e qui vi consiglio di leggere questo meraviglioso articolo di Rob Manshing vogliamo renderci conto che abbiamo un problema molto grave su come il software open source è mantenuto e su quali sono le interazioni tra i maintainer e la community di sviluppatori o di utenti dell'open source e questo articolo si apre proprio con lo step zero della timeline di questo attacco cioè il maintainer originale del progetto va in burnout lo dice lui stesso e solo l'attaccante che poi abbiamo scoperto essere l'attaccante si offre come aiuto si offre di aiutare quindi a questo punto l'attaccante prende tutta la fiducia per diventare maintainer di questo progetto va poi ad analizzare le list di cui abbiamo già parlato in cui altri utenti fanno pressioni per cui si cambi maintainer ci sono un maintainer vengono accettate le list eccetera tra l'altro non sappiamo se tutti questi utenti sono utenti veri davvero degli stronzi praticamente che vanno a fare dei commenti negativi su questa libreria oppure magari sono parte del disegno ecco criminale di questo attacco che ha fatto sì di mettere di creare altri utenti che facessero delle pressioni insomma per permettere poi a Jatan di prendere possesso di questa libreria non lo sappiamo però questo non c'entra comunque questa situazione l'abbiamo già vista in altri progetti la continuiamo a vedere ed è un problema molto serio perché queste librerie mantenute da un singolo sviluppatore che spesso non riesce a starci dietro sono tantissime e sono spesso fondamenta di progetti molto più grandi vi ricordate la classica vignetta di XKCD con l'intero uno stack enorme di container tenuto in piedi in equilibrio da un piccolo legnetto lo stack enorme è una grande applicazione un grande sistema open source il piccolo legnetto è una libreria mantenuta da un singolo sviluppatore benissimo siamo ancora in quella situazione lì il piccolo sviluppatore va in burnout qualcuno prende possesso di quella libreria compromette quella libreria tutto il sistema è compromesso questa situazione non è limitata a XZ è così in una marea di altre librerie su 404 Media altro articolo che vi consiglio di una fonte tra l'altro che cito spesso c'è questo articolo che si intitola bowling an open source software is a massive security vulnerability e narra la vicenda che è molto simile di FDroid che si è trovato che vabbè è un app store per Android si è trovata in una situazione simile qualche anno fa dove i mantener non riuscivano a star dietro alle richieste di inclusione di nuove funzionalità nell'app in particolare sulla ricerca un utente gli ha fatto una pull request proprio per migliorare la funzionalità di ricerca e gli ha fatto pressioni per andare a mergiare questa funzionalità però i mantener non hanno ceduto hanno mantenuto il controllo dicendo noi non mergiamo niente finché non faremo l'analisi completa di questo codice che ci stai mandando nonostante le numerose pressioni non hanno mai accettato finché alla fine hanno guardato hanno fatto l'analisi del codice mandato da questo sviluppatore hanno scoperto che conteneva una vulnerabilità di tipo SQL injection non si sa se intenzionale o non intenzionale il fatto sta che una volta che l'hanno scoperta l'utente che l'aveva mandata ha cancellato il suo account quindi ecco vai a pensare male insomma ci becchi e insomma quindi questa stessa storia insomma ci riporta a capire che il processo di accettare un request da vari utenti della community in pacchetti che poi sono effettivamente critici è un problema quindi come vengono mantenuti i progetti open source è un problema il fatto che le grandi software house che usano queste librerie perché sappiamo che più del 95% dell'intero software mondiale anche quello closed contiene librerie open source quindi praticamente non esiste software closed non esiste software completamente closed non esiste software che non include librerie open source eppure gli aiuti economici e proprio materiali ai maintainer di queste piccole librerie sono molto pochi rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno e questo è un problema che di nuovo è venuto alla luce e di nuovo è opportuno affrontare e poi c'è tutto il discorso di come questo attacco è stato congegnato cioè sfruttando i processi di build che quando installano pacchetti eseguono una serie di codici random anche difficile molto difficile da capire infatti vi lascio alcuni link come questo del ricercatore Ginwell Coldwind che fa proprio un'analisi di quello che fa step by step questo codice che tra l'altro si chiude con una frase sibillina come avevo detto già anche prima cioè non posso che chiedermi se questo backdoor è stato scoperto per sbaglio quante ancora rimangono invece non scoperte quindi vi lascio naturalmente il link a questo vi lascio il link anche a un post di Evan Boas oggi con i nomi mi casco malissimo insomma si intitola everything I know about the xz backdoor anche qua una timeline di eventi di quello che è successo e poi anche un'analisi appunto delle backdoor molto interessante vi consiglio di leggere vi lascio anche timeline of the xz lo pronuncio in modo diverso xz xz open source attack anche qua timeline degli eventi per farvi capire ancora meglio quello che è successo e sullo stesso blog di Russ Cox the xz attack shell script l'attacco insomma lo shell script xz qui c'è invece proprio un'analisi del codice riga per riga cosa fa questo codice e vi consiglio di leggere anche questo se volete proprio approfondire ancora di più e qui vorrei chiudere con delle considerazioni che appoggio alla lettura del paper del 1984 di Ken Thompson che è super attuale è un paper di tre pagine quindi lo leggete in un attimo che lui scrisse in occasione della della sua premiazione ai Turing Award quindi quando ottene il suo Turing Award il paper si intitola Reflections on Trusting Trust dove lui in pratica dimostra che può abbastanza facilmente manipolare il compilatore GCC quindi il compilatore per C per poi eseguire del codice random insomma sulle vostre macchine e quindi anche lui stesso il grande autore di software di C di Unix eccetera insomma non è affidabile non possiamo fidarci di lui perché non sappiamo quale codice poi andiamo ad eseguire anche se l'ha scritto lui quindi la morale insomma di Reflections on Trusting Trust è che in realtà non ci possiamo fidare mai di codice che eseguiamo sulle nostre macchine se non l'abbiamo scritto noi o se aggiungo non siamo in grado di analizzare esattamente riga per riga e capire cosa c'è scritto e invece quante volte noi dobbiamo per forza fidarci di codice scritto da altri quante volte eseguiamo codice con privilegi magari di root sulle nostre macchine perché lo vediamo in un tutorial o perché lo vediamo negli step di installazione di una libreria su Github o perché sono inclusi nei make file quante volte lanciate il make senza vedere esattamente cosa c'è nel make file cosa fanno quelle di codice quante volte utilizzate gli autotools quindi quando lanciate il configure quante volte leggete cosa c'è davvero dentro che cosa fa quello script eccetera eccetera poi si potrebbe estendere questo discorso a quando eseguiamo random codice che scarichiamo da internet con sh senza vedere esattamente che cosa fa e spesso con privilegi di root ecco tutto questo forse si dovrebbe far pensare che ci fidiamo davvero troppo di far eseguire codice con enormi privilegi sulle nostre macchine senza analizzarlo in prima persona quindi forse il modo con cui noi pensiamo al software open source a linux ma in generale all'installazione di software sui nostri device fissi mobile insomma dovrebbe un po' cambiare forse siamo arrivati a un punto di non ritorno in cui non possiamo più utilizzare le stesse modalità che utilizzavamo negli anni 90 negli anni 2000 quando internet era ancora poco diffuso adesso tutti i nostri sistemi sono connessi l'esecuzione di codice da remoto è una realtà valida per qualunque device anche se ci sono pochi server SSH esposti su internet però comunque ci sono un sacco di altri servizi che sono esposti su internet potenzialmente oggetti di attacchi di questo tipo per esempio abbiamo visto FDroid la ricerca è uno script che va su internet insomma uno di questi problemi ce lo possiamo avere sulle nostre macchine quindi probabilmente deve cambiare la modalità con cui noi approcciamo all'installazione del software forse e qui chiudo modalità come l'installazione di software sandboxato containerizzato come per esempio nelle distribuzioni derivanti da Nix oppure le modalità con cui installiamo le app sui dispositivi mobile che ci chiedono esplicitamente di dare dei permessi di esecuzione di accesso a certe risorse del sistema ogni volta che l'app lo richiede cosa che poi succede per esempio in altri contesti come in web assembly dove dobbiamo esplicitamente dare il permesso di accedere a una risorsa di sistema ogni volta che lo script che il software lo richiede ecco forse dobbiamo davvero iniziare e anche abbastanza velocemente a spostarci verso queste modalità quello che nel cloud viene definito zero trust cioè non possiamo mai fidarci di quello che viene eseguito sulle nostre macchine senza controllare davvero step per step quello che succede quindi a ogni nuovo step dobbiamo riconsiderare azzerata la fiducia rifare tutti i controlli richiedere i permessi certo sono cose che poi aumentano anche il carico cognitivo di utilizzare un'app un'installazione insomma un software di questo tipo però dobbiamo iniziare a capire che siamo esposti a pericoli molto gravi quindi qualcosa dovremmo fare queste sono solo le mie riflessioni sul trusting trust quindi sul fidarci della fiducia e poi insomma vi invito a leggere tutti i link che vi lascerò e anche questo meraviglioso paper di Tomson spero di aver fatto un riassunto abbastanza esaustivo di tutta questa vicenda dell'attacco alla supply chain open source perché appunto l'XZ è parte della supply chain software open source in Linux il più grave probabilmente il più importante il più discusso che abbiamo visto in tutti questi anni casco per chi altro vedete un sacco di potenziali discussioni se voi andate su Mastodon soprattutto su Reddit su Open World su Hacker News insomma troverete varie discussioni che vanno proprio a mettere in dubbio tutto quello che abbiamo dato per scontato in questi anni come per esempio cosa che vi ho detto io sul processo di installazione del software e insomma non so dove ci porterà spero che ci porterà a fare qualche cambiamento anche sulla sostenibilità si diceva del software open source mi spiacerebbe se tutto rimanesse così com'è perché evidentemente qualcosa di grave non funziona staremo a vedere nel prossimo futuro insomma spero che vi sia piaciuto quello che ho fatto ci sentiamo sicuramente non domani perché sarò a Faenza al CSS Day quindi niente buongiornissimo ma la settimana prossima spero di riuscire a pubblicare con un pochino più di continuità e basta ci vediamo presto passate un buon weekend fate bravi non installate software che non capite cosa fa leggete tutte le righe del vostro make file e basta basta ho davvero finito ci vediamo presto ciao